Porca loca è incrociato la è dovuto fare per sforza così guarda guardalo due su due, due cinque de fira se cambia si i primi sono andati su hanno preso un pelino e poi gli andato sono andati via anche io voglio prendere in Ciavella che roba si fa diretti è un po' solto ho visto? no non ho capito perché che ha fatto giusto è giusto è zero zero è zero che cazzo guidassi io così vai qui no zero la l'ha messo io non l'ho visto uno allora la non l'ho mica visto vai ma devi guardarle perché io la non li vedo fa niente e la daltonia ci sta a una certa età scende e non ho capito luigi è uscito dalla sua porra non è passato nel giallo fa un po' e un po' non ho capito che colori fa cioè non mi ha capito che color la fa alla fine vai bravo ah ah No, no. ne vai a vedere la piccolina e ora e i miei da soli